In queste prime partite ci hai provato tante volte ad andare in gol. Domenica solo un miracolo del portiere, ti aveva negato questa gioia. Oggi forse nel modo un po' più inusuale. Sì, domenica scorsa il portiere ha fatto una grande parata sul mio colpo di testa al 39esimo. Purtroppo non sono riuscito ad andare in gol. Invece oggi mi è arrivata palla su un cross, ho visto un girato, ho visto il portiere che c'era lo spazio tra il portiere e la porta, ho provato il tiro e è andata bene. Che partita è stata? È stata una partita difficile contro una squadra molto buona. Il primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo ci siamo schiacciati un pochettino, però abbiamo resistito e non abbiamo subito gol. Comunque questo campionato ci insegna dopo quattro partite che non c'è un avversario con cui si può giocare tranquilli. Ecco, è sempre una guerra. Sì, è un campionato dove non bisogna sottovalutare nessuno perché appunto sono tutte partite molto difficili. Adesso c'è una settimana di riposo dopo due partite consecutive, così in tempi ravvicinati sicuramente serve. Sì, così ci riusciamo a recuperare tranquillamente senza avere partite di mezzo. Poi aspettiamo che arrivi la prossima. Poi aspettiamo che arrivi la prossima.